Davide Giovagnetti, che ha diretto lo spettacolo Xanax, presentato dalla compagnia Clite di Palomino Mancini. A Davide Giovagnetti per Xanax, commedia dello spazio claustrofobico, dove il regista ha saputo muovere i suoi personaggi con una quasi celata coinvolgente dinamicità. Passaggi scambievoli, quasi impercettibili e sapientemente sorvegliati, rendono così scorrevole e talora divertente la dialettica, anche corporale, di due nevropici protagonisti, venutisi a trovare in una situazione paradossale soltanto all'apparenza, una sorta di gabbia uterina dalla gravidanza travagliata, si potrebbe dire, da cui tuttavia rinascere per poterci magari tornare finalmente più liberi e consapevoli. Grazie.